Il modo ione è aumentato con la seconda diesis in tonautà di Si, entre Si e Re, un tono e mezzo, tra Re e Mi bemolle, un semitono, tra Mi bemolle e Mi, un semitono, tra Mi e Sol, un tono e mezzo, tra Sol e La bemolle, un semitono, tra La bemolle e Si bemolle, un tono, tra Si bemolle e Si, un semitono. Due variazioni sono il Mi bemolle, il La bemolle e il Si bemolle.